ecco franco che va a farsi il bagno il primo bagno dell'anno si si adesso vengo è calda per essere al 25 di maggio del 2020 alle ore 10 30 è veramente una magnificenza bene bene e anche quel venticello che c'era ieri di oggi non c'è guarda ottimo ciao a tutti ciao